Siamo qui in Piazza Castello con le esponenti di Nuna di Meno. Tu sei? Elena. Buongiorno Elena. Che cosa significa per Nuna di Meno l'8 marzo? Per noi l'8 marzo è uno sciopero, è uno sciopero femminista e transfeminista globale. In tutto il mondo le donne oggi bloccano ogni tipo di lavoro, il lavoro produttivo che svolgiamo appunto sui posti di lavoro, nelle fabbriche, all'esterno, ma anche tutto il lavoro riproduttivo, quindi il lavoro domestico, il lavoro di cura che svolgiamo all'interno delle nostre case e delle nostre abitazioni. Attraverso la nostra sottrazione noi oggi cerchiamo di portare l'attenzione su tutto il carico di lavoro e tutto il peso che ancora oggi grava prevalentemente sulle donne. Ci operiamo dai generi e dal genere perché crediamo che oggi debba essere una giornata in cui sentirsi liberi di essere tutto quello che vogliamo senza dover sottostare a nessun tipo di ruolo, in posizione che ci venga assegnato alla nascita dalla nostra società in ragione del genere a cui apparteniamo. Grazie! Siamo il grido altissimo e feroce di tutte quelle donne che più non hanno voce! Siamo il grido altissimo e feroce di tutte quelle donne che più non hanno voce! E oggi non è una giornata di festa, una giornata di lotta, ma oggi è solo un giorno. Dobbiamo ricordarci che questo sciopero è un processo, un processo che deve vederci vittoriose e quale sarà la vittoria? Il mondo che sogniamo! Rimbocchiamoci le maniche e costruiamolo perché è tutto in mano a noi!